A Padova, altra vicenda di cronaca giudiziaria, vicenda che assume i toni della farsa tragica, lo scandalo delle cosiddette valvole killer dell'inizio degli anni 2000, oggi è stato addirittura cancellato dalla sentenza definitiva di terzo grado di giudizio, cioè la Cassazione, con conseguenze a quanto meno assurda. Il primo deceduto fu nel 2002, rottura della valvola cardiaca. Da quella vicenda si sviluppò uno dei casi più clamorosi della sanità italiana del dopoguerra, che interessò la cardiochirurgia dell'azienda di Padova, una delle eccellenze nazionali ed europee. L'inchiesta ed il primo grado del relativo processo sulle cosiddette valvole killer, prodotte da un'azienda brasiliana, la Tree Technologies, portò ad una serie di clamorose condanne, tra cui l'ex direttore della cardiochirurgia, il professor Dino Casarotto, erede del leggendario Gallucci e l'importatore e rivenditore italiano, il padovano Vittorio Sartori, accusati a vario titolo di corruzione, ma pure di omicidio e lesioni. In quell'occasione sostanziosi risarcimento, o meglio gli anticipi, vennero consegnati alle famiglie dei deceduti e ai pazienti, dotati di quelle valvole ma ancora vivi. La Corte d'Appello azzerò tutto e con la conferma in Cassazione venne addirittura annullata qualunque responsabilità dell'azienda, mentre la corruzione fu prescritta. Era stato individuato il difetto della valvola, un emidisco, che poté cominciare a circolare anche in Europa con tanto di certificazione. A quel punto l'istituzione sanitaria padovana ha chiesto ai destinatari dei precedenti risarcimento la restituzione delle somme, generando una situazione paradossale per cui si è mosso anche il governatore del Veneto, Luca Zaia. Gli interessati parlano di duplice, atroce beffa, aver perso un caro, figlio o marito senza che nessuno paghi veramente. E allora viene da domandarsi, mala sanità o mala giustizia?